Benvenuti a un'esperienza culinaria unica nel cuore della Sardegna. Nel nostro video seguiremo Enrico mentre ci conduce attraverso la tradizione secolare della macellazione e dell'arrosto della pecora. Enrico con esperienza e attenzione sceglie accuratamente la pecora migliore per la nostra preparazione. Con gesti precisi e rispettosi sfrutta ogni parte dell'animale in linea con l'etica e la tradizione sarda. La pecora allevata con cura nelle verdi colline della Sardegna offre una carne di alta qualità arricchita dai profumi della natura selvaggia. Il momento della macellazione oltre a essere un'importante tradizione è un gesto di rispetto verso l'animale e un modo per mantenere viva la cultura sarda. Una testimonianza autentica delle radici profonde che guidano la nostra cucina e ci permettono di gustare una carne straordinaria e apprezzata in tutto il mondo. Un'esperienza culinaria avvolta nella storia dove la pecora racconta le storie delle generazioni passate, un viaggio nel tempo, un abbraccio alla tradizione e un assaggio delle prelibatezze che solo la Sardegna può offrire. Enrico gestisce con grande maestria queste tradizioni che vengono tramandate da padre a figlio di generazione in generazione. Così come Martina che lo supporta nella preparazione della brace per creare la giusta temperatura per una cottura perfetta, croccante all'esterno e tenera e succosa all'interno. Shardana Cooking vi ringrazia per la visione. Registrati sul canale e metti un mi piace se il video ti è piaciuto. A Sibiric un saluti e trigu!